Musica Noi ricordo che quando ho cominciato eravamo in casa alle prime bombe, poi prima ancora avevamo visto gli aerei che facevano guerra fra di loro, in alto sulla piazza, tutta la piazza piena di gente a guardare che si sparavano contro, che se una raffica veniva giù tra la gente era un macello. Dopo hanno cominciato i primi spari, eravamo ancora in casa, le granate, via di corsa, via di corsa, siamo arrivati su alla grotta davanti alla farmacia qui di Montescudo e siamo stati un giorno lì e poi dopo abbiamo girato parecchie, sì, perché tutta la famiglia. Dopo siamo stati a Torniano, tre o quattro giorni, e poi siamo venuti su qua su, lì sotto il ristorante Malatesta. C'era una scala, era alta 50 centimetri, noi bambini non ce la facevamo farla perché venivano ad arrampicarsi. E poi su in alto c'era un salone, la grotta era, e ci siamo messi lì tutti, c'erano parecchie famiglie, siamo stati lì fino alla fine. E' arrivato il momento degli inglesi, c'era in mezzo una sala, e poi si andava sopra che si andava a uscire nella casa di Piancastelli, quella volta, era il nostro dottore dell'ospedale, che era già occupata dagli inglesi, i tedeschi erano già andati via. Loro, loro facevano il suo lavoro, noi eravamo bambini, tutti lì a quella porta a guardarli, ogni tanto ci infilavano oltre una cioccolata, se ne abbiamo mangiate parecchie, ma... e quella volta... E comunque siamo stati lì fino a... che sono andati via, che è finita la guerra. Quando sono arrivati gli inglesi, c'era dei cosi, c'era ancora un tedesco che dormiva con noi all'interno. E' venuto su, lì dove c'era quella scala alta, inglesi, 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 datemi la roba! Per paura che facesse qualche dispetto, gli avevano fatto lasciare fucile lì dove dormivamo noi. E lui era di sotto, al piano in fondo. E loro è venuto su, tutto affannato, date, date armi, date armi, inglesi, inglesi. Abbiamo sentito poco dopo a quello, o se non l'hanno ucciso, poco ci manca. Perché abbiamo sentito sparare nella casa di sopra. Quando siamo stati a Torniano, quei giorni, sotto la chiesa, c'era una quercia, che era grande. Noi bambini siamo venuti su, quando siamo stati lì, io me lo ricordo bene, cadere il muro della chiesa. Abbiamo visto proprio bombardarlo, e noi eravamo lì, i miei emili dicevano, state dietro la pianta, perché può saltare qualche scheggia. Eravamo sempre chiusi in casa, non ci mandavano per niente fuori, perché era pericoloso. la prima bomba che hanno buttato, ci sono dei castagni, tra i castagni, e noi i bambini siamo andati a vedere per prendere tutti, ma eravamo in parecchi, la scheggia per ricordo. Quella era stata la prima, dopo ce ne sono di scheggia. Grazie. Grazie a tutti.